Ammontano a 3 milioni di euro le risorse economiche messe a disposizione dalla Camera di Commercio Chieti-Vescara per il programma 2024 a favore delle imprese del sistema economico e produttivo del territorio. Al 31 dicembre dello scorso anno, ha sottolineato il segretario generale dell'ente camerale De Vita, le imprese registrate presso la Camera di Commercio erano 80.447, in diminuzione dell'1,1% rispetto all'anno precedente. Intanto sono 3 milioni di euro che gli organi della Camera di Commercio mettono a disposizione per lo sviluppo e la competitività del territorio di Chieti-Vescara. È il primo programma dei nuovi organi della Camera di Commercio che punta su alcuni aspetti chiave per il rilancio dell'economia e per il sostegno dell'economia di questo territorio, a partire dalla doppia transizione digitale ed energetica. Su questo c'è un impegno molto forte della Camera di Commercio attraverso il suo punto di impresa digitale, attraverso una manifestazione clou che è visionaria, attraverso tutta una serie di servizi che mettiamo a disposizione delle imprese del territorio. L'internazionalizzazione, questo è molto importante, cercare di ampliare il numero delle imprese capaci di andare all'estero. I dati sono importanti, stiamo lavorando per organizzare l'Expo Japan in collaborazione con la Regione e tra una settimana partirà anche una missione importante appunto per preparare questo importante appuntamento in cui la Regione Abruzzo deve essere tra i protagonisti. I punti critici, diciamo, da questo studio che voi avete evidenziato, dove si deve intervenire maggiormente? Sulla formazione sicuro, perché mai come adesso abbiamo bisogno di conoscenze. E' un detto antico, l'uomo vale quando sa, per cui maggior contributo siamo in grado di dare per la conoscenza, diciamo, delle nuove tecnologie, della diffusione dell'intelligenza artificiale, miglior contributo diamo alle nostre aziende, micro, piccole e medie, però più andiamo avanti dalla grandezza dell'azienda, più sono strutturate, probabilmente meno hanno bisogno. Noi dobbiamo guardare a far crescere più le piccole che hanno più necessità. All'obiettivo di voler condividere con i giornalisti un po' All'obiettivo di voler condividere con i giornalisti un po'